Non è piaciuto l'atteggiamento nostro iniziale, i primi dieci minuti e un quarto d'ora siamo stati un po' troppo leziosi. Però devo dire che bisogna anche dare merito alla Gelbison perché loro invece sono partiti al contrario, sono partiti belli, veloci e ficcanti perché cercavano sempre di verticalizzare e trovare soluzioni davanti. Però man mano che passava il tempo si vedeva che poi noi con il nostro oramai ritrovato equilibrio, un equilibrio sostanzioso, un equilibrio che ti dà sia nella fase di non possesso ma anche e soprattutto nella fase di possesso maggiori possibilità per poter arrivare davanti alla portaversa. Tra l'altro i gol aiutano perché per gli attaccanti sono di vitale importanza. A me fa piacere, quando segnano i due attaccanti a me fa sempre piacere perché è vero che non sono i soliti in questa squadra, non sono solo gli attaccanti che si mettono nelle condizioni di fare gol, ma ci sono anche gli esterni, ci sono anche le mezzeali, i mediani, vedi anche il gol oggi di Alessio Esposito che si ritrovano lì davanti alla porta e possono andare, però per gli attaccanti è un bene.